Il kiwi svolge un'azione dissetante, rinfrescante, diuretica e depurativa. Grazie all'elevato contenuto di vitamina C, favorisce le difese dell'organismo e protegge le pareti venose. La grande quantità di vitamina C e di potassio, unitamente a una ridotta concentrazione di zuccheri e una notevole acidità relativa, lo rendono indicato nella gestione di svariate malattie. Ad esempio, nei pazienti oncologici, che manifestano nausea e stipsi durante il trattamento chemioterapico, il kiwi costituisce un vero e proprio farmaco. La sua acidità elimina il senso di nausea, migliorando l'appetito e la funzionalità dello stomaco. La sua azione lassativa permetterà l'eliminazione di scorie attraverso l'intestino, che altrimenti sarebbero rimaste molto molto tossiche. Nei casi di alcalosi urinaria, il kiwi consente di riportare il pH sui suoi valori acidi. È noto che in alcune condizioni cliniche l'eccesso di radicali acidi nel sangue abbassa il pH, ematico, sotto il valore fisiologico di 7.4. Quando l'organismo non riesce, più a rendere idrosolubili questi cataboliti e eliminarli tramite le urine, il pH urinario si manterrà su valori alcalini. Il kiwi accelererà il metabolismo dei radicali acidi. E ancora, nel trattamento del diabete, il kiwi può essere impiegato nell'alimentazione quotidiana. La percentuale di fruttosio è inferiore a quella di altri frutti. Lo stimolo metabolico indotto dall'acidità e dalla vitamina C si ripercuote positivamente sul pancreas. Grazie all'azione sinergica di vitamina C, rame e ferro è un potente antianemico. L'effetto lassativo del kiwi si verifica per la stimolazione epatica esercitata dalla vitamina C, per l'azione mio rilassante del potassio e per l'azione della grande quantità di cellulosa e di pectine. Grazie dell'attenzione.